Ecco le nostre ricerche di storia con i powerpoint e i cartelloni fatti interamente da noi ragazzi e ragazze della quinta A. Io e Joe abbiamo studiato le olimpiadi. Mi sono divertito a cercare le immagini da inserire. A me piace scrivere al computer. Ecco le didascalie delle immagini. Anche noi abbiamo approfondito le olimpiadi. Abbiamo pensato di inserire la foto di due mani che si stringono per far capire che durante i giochi cessavano guerra e rivalità. Noi abbiamo trovato le specialità olimpiche sui vasi come la corsa, il lancio del disco e la lotta. Noi abbiamo fatto i cartelloni. Io ho fatto uno schema come abbiamo imparato in classe e ho aggiunto le immagini. Io invece ho usato gli anelli del simbolo olimpico per inserire le informazioni. A noi interessava scoprire qualcosa di più sull'arte greca. Ci siamo divertite a inserire le risposte alle domande in tanti modi diversi. Guardate questa discesa a pioggia. Abbiamo anche trovato un bellissimo video che spiega l'arte dei vasi greci e l'abbiamo mostrato ai compagni. Noi abbiamo approfondito il teatro. Abbiamo scoperto grandi autori greci, come Soffocle per la tragedia e Aristofane per la commedia. Abbiamo portato a scuola anche libri scritti in greco. È stato bello per noi scoprire grandi uomini di scienza, come Pitagora e i suoi pitagorici. Siamo riusciti a inserire anche schemi nella nostra presentazione per farvi capire meglio. Questo è il nostro lavoro. Spero vi sia piaciuto.